Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per questa domenica. Tempo ancora perturbato al centro e al sud per effetto della depressione artica sviluppatasi nelle ultime ore che ha regalato non solo a piogge ma anche nevicata a cotte piuttosto basse al centro e al sud. Nel corso di questo fine settimana avremo ancora delle precipitazioni diffuse, specie sul bersante adriatico, mentre tornerà un po' di sole su quello tirrenico. In Abruzzo giornata perturbata, ancora con tanti nubi e sprazzi di sole praticamente nulli. Avremo piogge sulle coste, nevicate sull'Apenino, sino a cuote collinari, generalmente oltre i 500-600 metri di altitudine, accumuli che saranno abbondanti, importanti, oltre i 1000 metri. Ci aspettiamo ulteriori accumuli attorno ai 20-30 centimetri che andranno a sommarsi, quali caduti proprio nelle ultime ore. Le temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo nelle minime, valori tra i meno 3 e i 2 gradi, massimi attorno ai 7-8 gradi lungo le coste, molto freddo invece nelle aree interne. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per essere stati con noi e vi facciamo un appuntamento. Safe Gate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito. SafeGatePro.com Grazie per essere stati con noi e vi faccio.